Ciao a tutti, stiamo andando a Universal Studio, ovviamente, solito e sicuramente per Shuppo Mario. Ragazzi c'è una fila pazzesca, io mi sento un padre di famiglia questo qua. Marcia trionfale, il Kangoo che realizza un sogno, dopo 31 anni di passione, finalmente, quel giorno è arrivato, Shuppo Mario. La lacrima. Le emozioni, raccontaci le emozioni che stai provando. No, voi non potete capire, cioè chi mi conosce lo sa che io ho due grandi passioni nella vita. Super Mario. La figa. No, ballo, io tanto. Siamo ufficialmente dentro, ragazzi. È il parco Giorgio, cioè, con menti a caldo, sono un po' caldo. Stiamo avvicinando la casa di Harry Potter, c'è tu il fronino. Prendi la scopa, bro. Prendi la scopa, prendi la scopa, prendi la scopa, prendi la scopa. Prendi la scopa, prendi la scopa. 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 Spadermare. Si deve stare in mezzo. Dicci, cos'è che si prova ad essere poveri? Tante cose contrastanti. Qui la cosa più economica è due spille, 10 euro. Vabbè. Allora, ragazzi, vogliamo che sul sito c'è scritto che per accedere alla parte indicata a Super Mario va comprato anche un biglietto aggiuntivo che però sul sito non si trova e non è che si capisca bene proprio come ottenere questa cosa. Oggi l'abbiamo capito. Fondamentale è scaricare l'app dell'Universal Studio Japan. E dall'app potete prenotarvi alle attrazioni che potete fare. Perché noi ci siamo prenotati stamattina, noi siamo arrivati qua alle 8 del mattino ma il primo posto disponibile ovviamente era alle 17.30. Quindi adesso abbiamo 9 ore per la gioia di Ilario, dopo Ilario. Quindi ecco, sappiate. La scelta del braccialetto è molto importante perché stabilirà la squadra di appartenenza. Guarda, questo è lo scontrino che attesta che sono povero. Ma va, ma che bello. Io ero nella squadra Mario. Ora sincronizziamo con l'app e andiamo a battere tutto. Super Mario! No vabbè, i suori dell'infanzia raga. No vabbè, è pazzesco. Questo è Mario 64. Raga, ed è questo. È dove mi porto oggi. Welcome to Mario World! Quelle monetine in Sicilia non mi fanno un pazzino. All'interno dell'app ci sarà una mappa con tutti i minigiochi da affrontare. Ogni gioco darà monetine alla tua squadra e a fine giornata uscirà la classifica finale. Ciao, Cirio! Ciao Cirio! Ciao Cirio! Ciao Cirio! Ci ringrazio al passo! Ciao Cirio! Scusate! Bella! Scusate! 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 Anche oggi... 5 Grazie a tutti! Ma poi il gioco si fa duro e allora le leggende iniziano a giocare. Grazie Osaka per questa giornata indimenticabile.